Pa, io vado! Non hai preso lo spray al peperoncino? Addirittura, pa! Che paranoico! È come portare l'ombrello anche se non piove. Infatti c'è un sole che... Non succede. Ma se succede. Spray al peperoncino da difesa Diva. 100% legale e fatto solo con ingredienti naturali. Diva e legittima difesa li trovi online e nelle migliori farmacie, ferramenta, erboristerie e tabaccherie. La tua sicurezza in sicurezza.